in the jungle ciao ragazzi oggi è quel momento del mese in cui io decido di spendere tutti i miei averi in figurine ebbene si che bello che bello sono un botto gasato perché qua dentro abbiamo roba grossa del tipo qualche ultimate da set particolari e non vi spoilerò altro in più c'è roba edison e robe a caso adesso andiamo ad aprire senza tagliarci le mani come ho fatto ieri al lavoro e non posso neanche denunciare il conad quindi non beccherò neanche un soldo per essermi tagliato un dito in più il collega mio era pure ammalato quindi 100% ci avrà il covid e ce l'avrà attaccato oh mio dio se sono aperte tutte le scatole è un disastro prima di procedere ovviamente ragazzi vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da magic corner link del loro store qua sotto in descrizione in più se volete liberarvi dalle vostre carte singole o se avete anche del sigillato a casa contattatemi su instagram troviamo un accordo e ritiro praticamente di tutto sia di pokemon che di magic che di yugi che anche di one piece se avete qualcosa anche forso will così per ride detto questo facciamoci spazio e vediamo nel pratico cosa ho comprato perché sì qualcosa so come sempre ma non tutto allora ragazzi questa è la carta più bella di yugi e non voglio avere polemiche di nessun tipo allora vediamo vediamo che sono bello casato già vedo qualcosa di buonino è abbiamo un lotus specchio in prigione ombra in tedesco allora robina mezza carina l'unica cosa che è in una lingua terribile allora mamma mia è da morì spero che non sia tutta così altrimenti col cazzo che la carico sul market comunque link del mio car market qua sotto in descrizione a c'è anche twitch se mi volete followare perché mi volete bene fatelo grazie perché prima o poi tornerò a streamare allora abbiamo dei carri dei gladiatori bestia onesto corruzione trap stan roba brutta diciamo che l'obiettivo mio sarebbe trovare delle necro valle perché ne ho vendute tipo 10 o 12 a 5 euro cad la gente impazzita quindi vorrei tirar fuori qualcosa mi sa che sto palo mi sa che sto schifo da lcjw stia qualcosa bello questo nm sarà tipo a un euro la cosa positiva è che almeno queste robe che vi faccio vedere sono mezze decenti e belli macrocosmi belli sono carte incredibili che la gente anche le limite di evocazione ne pagherà un boato un boato dei soldi allora drago avido roba gold roba a caso e qualcosina di got abbiamo tornati la prima foil allora allora ratto gigante una spaccatura dimensionale questa cazzo che è veramente pura dovevo spedire questa al tipo dopo che non mi ha risposto allora bello questo in tedesco questa e che cazzo metti a fuoco curibon mettiamo subito la parte troppo ragazzi è troppo bellino super è da ac 11 quindi se non ricordo male è del calendario dell'avvento sarebbe stato bellino se la conami l'avesse fatto pure quest'anno che lo fece per il 2018 e 19 se non sbaglio quello del 2018 c'era all'interno bagusca il 2019 invece era veramente terribile la conami ogni tanto ha delle buone idee e altre volte cose terribili fa poi abbiamo dei polveri di stelle tutti da toc onestissimo un cosacco da gold questo che spero che si venda ancora poi altri polvere roba un po x bella questa peccato che l'hype per alla nera è un po scemato allora allora roba x a caso giriamo ve le posso far vedere tutto al contrario allora gadarla bellino in tedesco ma perché la roba buona erenz me la mandi in lingua discutibile mandamela in lingua umana e che coglioni nel senso con tutti i soldi che ho dato nel corso dell'anno scorso almeno mandamela lingua buona poi abbiamo gadget un retiario bel bello questo c'è quello un altro retiari assolutamente cazzo c'ero c'ero solo secret allora allora base gb drago di luce oscurità e bello questo da turbac sempre nella lingua degli dei allora graffa gold porca troia questo mi metto da parte sì probabilmente quando vedrete questo video lo structure sarà anche vecchio però nel senso oggi è una carta che ha senso soprattutto perché è uscito tipo tre giorni allora abbiamo delle corruzioni carta regalo needle bug nest un altro macrocosmo incredibile carta peggiore del formato insieme a sfissur soprattutto per gente come me che gioca mazzi che sfruttano il cimitero o le carte mandate al cimitero una rivalità ottimo diciamo voglio mettere da parte le carte migliori al un altro macrocosmo in tedesco altri due una rivalità un altro macrocosmo una rivalità drago argento occhi azzurri wow hanno ripintato lo structure allora allora andiamo col secondo boxettino qui non c'era un cazzo e vediamo ancora neanche una necro valle mamma mia che bello lo ts 19 che cazzo c'era qua wow assolutamente niente tiriamo avanti perché vorrei andare alla roba ciotta e non me va de fave vede common per le prossime sei ore un kaiser colosseo bellino vediamo vediamo un bello questo da store drago drago fragmento poi 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 in americano ma incredibile sono due in america no troppo belle troppo belle meritano una fodera bevamola da sto schifo qua pur in cruco lingua de merda paese de merda domani tutti i giocatori tedeschi sotto al mio video all'inciamme mago delle tempeste un altro shavax umberlu umbrellum cazzo c'è la fogliatura simile a quella americana ed è in italiano poi abbiamo arpi arpist common veramente brutte da etko e erenz perché mi continuo a inviare la roba da etko quando uuuh terraforming da mago quando ne sono pieno perché me ne è già inviata una caterba in mezzo allora allora abbiamo un altro drak del cazzo segna mostri vecchi il video sarà probabilmente o bella rivalità e poi si dirà avanti o bello macrocosmo pendoli a caso o r dai che me che u questa di peccato porca c'è una piega che cazzo erenz sta roba da mfc potevi proteggere un tantino di più cazzo cattura drag in seconda delle dd mettiamo subito da parte questa secret da bpf in prima ma ovviamente ci avrà minimo una piega dietro no dai ex ci sta grazie una carta non danneggiata allora poi è questo ragazzi questo tutto grazie al mio fedelissimo stegosauro che mi fa coraggio in questi momenti difficili allora qua invece belli uuuuh cazzo questo ulti in prima bello bello gli immortali terrestri questi sono buonissimi dai c'è sta allora la cifra che ho pagato bravo er no posso piangere posso posso piangere no e vamos schifo dai subito comunque ragazzi ricordatevi che quasi tutto quello che sta qua dentro è in vendita quindi se vi serve qualcosa scrivetemi se non è già partita allora allora vediamo pianta o le rivalità queste sono gioie per gli occhi la statua 1 in tedesco 2 dell'acqua quindi totalmente inutile ragazzi faccio una previsione ragazzi incredibile hanno bannato tempest nell'ultima banned e ci hanno dato redox perché mai capisco che in mazzi vento questa poteva essere così cioè fortissima però questo switch non me lo sarei mai aspettato bene speriamo che questa predizione si riveli vera perché sarebbe un plot twist incredibile andiamo col resto abbiamo fodere aerolive in tedesco ovviamente perché darmela in italiano era troppo dei capri bella questa mettiamola via è un mio forse vale qualcosina vediamo qua un mac fortezza se me lo dai super nm sarei contento perché quelli che ho comprato li ho persi ma mettiamo questa o i preti asura che non vorrei di troppo forte e ora che li reprintino perché questi li posso vendere tipo a 3 euro tigre reale wangu un po' di rayo questi sono sempre buoni dei conigli dei bls comunque sono buoni allora attualmente posso veramente dire di avere tutto il formato got e tutto il formato edison allora 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 abbiamo roba a caso sai struttura non sento quel brio quella cosa che mi dice wow incredibile cosa hai trovato dai dai dammi una gioia carini questi c'è un po' di roba d'arsenale vento perso uno gold ho visto ma meglio di niente allora ovviamente me il fusoli era distrutto porca troia pagati 4 euro io per il mazzo mio l'uno poi perché sai nm non si trovano 101 da wira che palle belli questi due inti e due qui là poi un altro mac fusoliera poi poi dai uh bello maestro zombie super da taev tanta roba quello ulti se non sbaglio l'ho piazzato dovrei averlo venduto uh bello beh questo questo l'ho dovuto ordinare cazzo finalmente mettiamolo da parte meno così levo quello tedesco comprato eh lo so ragazzi ma non volevo fa un ordine stesso per lui l'ho trovato in un altro acquisto detto vaffanculo e me lo compro e niente speriamo nell'altro che mi dia gioia amore un ricastro ottima come carta limite d'evocazione c'ho un sacco dei prigioni e da carte delle cw y allora allora cosmo town ottima perché so a chi darla se no è una foil come un'altra allora allora vediamo basta palta e palta vaffanculo pensavo di trovare una misprint incredibile ragazzi sto veramente sudando per guardare delle carte non è possibile più faticoso di mettere i i prodotti sugli scaffai al conad allora su per un'altra da mfc amma mia ce ne fosse una in una nm belli questi mettiamoli via da ld ma in prima io so povero collezione solo in seconda poi 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 niente bello questo da dr04 allora allora qua abbiamo qualcosina di cari di carino spero abbiamo shield crush in americano prigione della torre dell'orlogio super in prima anche questa buona abbiamo due e occhiali di marshmallow mondo maligno carte a caso tutta roba common ovviamente needleworm che bello questo c'era un mazzo una volta infatti faceva macinare tutto il mazzo fondamentalmente c'era anche la versione con gli zombie perché esiste un mosso livello 2 che non ricordo assolutamente in quale momento della partita ti faceva macinare già faceva macinare all'avversario allora un bello muro che è stato reprintato da poco se non sbaglio robe a caso bello questa in tedesco ovviamente rivalità se meno uscisse una rara sarei bello che contento perché ne ho due rare una common e sta cosa mi urta un po il sistema nervoso allora vi stavo dicendo però devo ammette che è un bello sfondo ha un suo perché è molto artistico allora come non detto torniamo ai mostri abbiamo wolf o carte a caso carte a caso stratos allora poi dai dai i testamenti della terra forte anche le giare forte anche mondo no mondo zombie uno solo nobiluomo onesto allora altri bls altre strega altre cose e bocciolo a sesla un altro retiari anche questo sarà ottimo denti leone super bello un playset di artefatto lancea in crucco queste sono carte del cazzo e sembra anche giusto delle uu mamma mia che bello che bello ma c'è un cazzo c'è una cazzo di piega sull'angolo vediamo qua e una dimensional spaccatura sì queste queste ne voglio vedere una quintalata allora roba sei samurai viaggio condiviso nobiluomo una poto dai dai no non mi dico e siamo un bel playset di necro valle queste faranno un volo incredibile e questo questo questa è una gran carta eh allora andiamo adesso al secondo team abbiamo anche qualche play ma mamma mia non so più dove metterli allora abbiamo ma ma ce ne ho 27 milioni di copie e il cannone mi può tornare utile invece poi dweller o forse qua ci sarà qualcosa di bellino sento puzza di carte buone bello pegaso ultra cioè in che senso che senso è stato rigato erenza dimmi il nome di chi ha fatto sta roba perché c'ha veramente la madre puttana poi abbiamo roba a caso totalmente inutile uh carte pokemon ragazzi fra un po inizio anche io a collezionare pokemon e io a svenarmi tanto quanto faccio con yugi allora uh bella questa data e the secret c'ha qualche difetto anche troppi poi 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 abbiamo ancora niente abbiamo poi un mobius raro era nm cazzo l'unica cosa che nella lingua più brutta del mondo l di ding in spagnolo vabbè caina rana scambio eruzione moltiplicare allora uh bello questo bello bello foil poi abbiamo un altro tg del cazzo questa che se non sbaglio è bandita allora poi abbiamo dei mochi mochi delle carte a caso poi un cimitero silente che mi mancava il terzo posto ho risolto il problema tifone altre spaccatura perché la konami le ha messe a tre così a caso sono distrutti ma son bellissimi cazzo ho proibizione altra carta che dovrei caricare assolutamente poi vediamo system down book of eclipse questi mettiamoli da parte perché non si sa mai anche system down di nuovo erans messa che te sei dimenticato qualcosa manca tipo una cosa come l'album abbiamo un altro deck box dei regionali gli fa pandan con quello verde metteremo a fianco e poi un mazzetto che mi sa che a sto giro è il tengo plant si bello bellissimo la dr2 gorzo bulbo un altro warning ragazzi questo vi viene di notte vi uccide dandillion un'altro vailer americano vabbè dei token un po bizzarri questo che lo metto in collezione visto che ho l'altro un segna gorge un paio di max c che ho strapagato tre no due corvi sarebbe stato bellino trovare anche il terzo e poi abbiamo delle cosine di extra trago stella cadente triscia polvere di antico drago fatato drago rosa nera tg per librarion the jump drago orientale numero 17 e drago frammento probabilmente erano queste le robe dell'album però manca ancora l'ultimo pacco abbiamo roba dark world anche da structure bellina no questa roba non la conosco tutta ma è fuseliera reload da io c turbine da up 8 vincolo di potere poi abbiamo arte avanzata così a caso bello questo dai ig o ig o 1 l'unica cosa che ha una piega enorme poi abbiamo delle ricariche solari 2 scien 8 belli secret comunque di eratic sun dragon poi dei laggia dei dolca dei draghi del giudizio anche questi buoni il terzo max c ovviamente poi abbiamo un regechi da db 1 ultra terrasporto guerriero colpo scuro e spade rivelatrici da hl molto belline anche queste andiamo avanti abbiamo dei pegasi delle cose a caso carta di naruto palesemente fake carta molla carte a caso dai o tiriamo fuori la roba bella vabbè ok bellini thor loki e thor però nel senso belli questi dacci ok questi un attimo mettiamoli da parte perché potrei sapere a chi darli bello aine e ur in tedesco porca troia abbiamo un altro playset di aine edel roba ricca poi abbiamo roba di one piece dell'anteguerra che ovviamente non è una roba nuova drago finoscura carta di naruto lui che è salito di prezzo a causa mia abbiamo un caius carta caso bellino il veiler il clicheto gigante super agile sintonizzare e basta poi abbiamo di guai ba schiacciare rose jeans o carte a caso il clicheto altri sintonizzare foil belli questi vediamoli sonda led non so da espansione però vanno benissimo pistolero numero 20 butta fuori colpo fotonico vabbè secret da gao poi vabbè gaia in americano ma questo già ce l'avevo già ce l'avevo già questo già lo avevo poi il gola drago secret detonare ultimate no si detonare alla di drago drago fine oscura drago esplosivo le viire vabbè un polvere secret che ha visto tempi migliori un arcidemone stessa cosa due draghi totem le un pochino rovinate poi tre cazzo di red eyes flare metal dragon da jump ragazzi no questi sono veramente belli sono veramente belli porca troia poi tra il resto abbiamo un drago rosa nera con la scritta blu ex odio da lob in spagnolo questa bellina il terzo corvo antico drago fatato curio colpo scuro un altro chimera che è sempre buono android è salito sempre per colpa mia e me l'ha fatto pagare più perché la colpa mia poi abbiamo un paio di maestri armatura la nera worm in americano che ragazzi questo non lo do se me lo chiedete non ve lo do poi un paio di polvere un paio di golio ultimate di cui uno che ha visto palesemente i giorni migliori ma anche l'altro non è che stia bene poi abbiamo un altro arcidemone da ct cannone alla barda ultimate blade blaster ultimate quella ultimate antica sacra viverna stessa cosa questa distrutta bestie barkion secret e vabbè dei decoici super poli che ovviamente questa roba che devo caricare assolutamente quindi mettiamoli via un avvertimento un paio di rana scambio e uno strike ninja da io ci in inglese aspetta non abbiamo finito scusate ragazzi mi sembrava mancasse ancora qualcosa abbiamo mamma mia qua non finisco più abbiamo eroe malvagio prodigio infernale gale le viverne decreto reale fascino trago edia spaccatura onesta mettiamola qua poi mi sa che me la tengo questa poi abbiamo dei fenix wing blast in americano caius absolute zero è però però questo c'è sembra nm ma non lo è era quello dei go 4 peccato diciamo che non me l'aveva detto ha recuperato con altra roba dei sarcofagi gaia questo è incredibile lo prenderò in 0.3 secondi dei veiler virus bello super a degli up star da dem delle risucchiabilità da l'art sono incredibili dei giudizi prigione trap da shot royal oppression anche quella stacca ha visto tempi migliori dei pagati troppo poi abbiamo un breaker da mfc per favore fa che sia messo bene porca troia preso l'umidità dietro lo sapevo però speravo che non lo fosse sono indeciso forse andrà in collezione mettiamo questi subito qua che devono andare a vendere tre araldini presi troppo tardi poi abbiamo rescue cat le cannonate super belline e basta allora adesso vi faccio vedere i tappetini che mi sono arrivati partiamo dal più soft che è questo drago bianco occhi blu caiba molto in tinta col negozio quindi top e messo anche relativamente bene dovrebbe stare a poco se non sbaglio poi dovrei controllare poi passiamo al secondo che secondo me è una bella chicca perché non è da tutti ok c'è un green screen quindi diciamo che quello verde si vedrà poco però cazzo è il playmat che si dava alla obiligio questo mi è stato esplicitamente detto di non venderlo e probabilmente non lo farò anzi lo terrò perché comunque un bel pezzo da collezione anche se non è sigillato e non è perfetto ma sti cazzi e per concludere abbiamo l'ultimo penso abbiate capito di che playmat sto parlando non lo tiro fuori perché non voglio rimetterlo dentro perché ci metterei una vita e mezzo non è sigillato ovviamente è il playmat di ash che veniva dato ai judge e ragazzi mi dispiace non ve lo tiro fuori è andata così prossima volta ci sarà tempo anche per farvelo vedere comunque bene ragazzi finalmente mi è arrivato l'ultimo pezzo dell'otto incredibile e diciamo qua c'è una vera e propria bomba ma andiamo a vedere apriamo sperando di non danneggiare niente perché qua si parla di carte sopra i 100 euro quindi potrebbe essere un po una rottura dei coglioni abbastanza allora bene sì è arrivato il raccomandata 1 comunque ragazzi questo pacco c'è una storia incredibile perché mi è stato spedito due volte la prima era stato fermato dalla dogana pensando ci fosse della droga ok va bene andiamo con la prima busta e già e già partiamo molto bene allora abbiamo questo jubel incubo fucking finale in prima edizione no è bellissimo vorrei vedere le condizioni allora non è un nm perché comunque ha dei difetti però ragazzi ha c'è anche una cosina questo in alto peccato però ragazzi in prima edizione sto coso penso starà sui 60 70 una roba del genere poi appena avrò un attimo di tempo vado a controllare andiamo con la seconda carta è uno jubel in cubo fila no uno jubel basta anche questo in prima edizione molto bellino vediamo le condizioni questo è bello pulito c'è qualche punto bianco come potete vedere però è bello arde tanta roba mettiamolo qua e a rigor di logica qua c'è il terrore incarnato anche questo in prima edizione forse con qualche pressione andiamo a vedere eh sì eh sì sì c'ha un paio di pressioni peccato e il back è devo dire discretamente buono eh diciamo che più o meno se non vogliamo considerare le pressioni questo è nm meno questo uguale al massimo sono due ex e questo è un lp però nel senso non ha pieghe non ha grinze ha solo quel cosino a su in alto che mi urta il sistema nervoso però ragazzi è un set in prima edizione non vorrei dire eh è una di quelle cose che volevo sempre recuperare e non ho mai fatto perché non avevo voglia o soldi adesso andiamo con la bomba la bomba è incredibile ragazzi tiriamolo fuori piano 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 bam un drago del fucking giudizio ultimate guardate quanto è bello bisogna controllare assolutamente le condizioni grazie a dio c'è la perfect anche questo sfortunatamente ha dei punti bianchi adesso se riesco vorrei farveli vedere qualcosina nell'angolo a sinistra qualcosina in basso però vabbè ragazzi è un drago del giudizio in prima sì in prima edizione è un drago del giudizio ultimate porca troia quanto cazzo è fucking bello incredibile veramente tanta roba detto questo ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento mettiamola lì la vostra carta preferita di questo lotto così stasera adesso andrò a farmi un po' un recap di quello che ho tirato fuori per vedere se ci ho guadagnato o meno però a sto giro vedendo la roba no 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 a sto giro a tutti i giri dovrei aver guadagnato e non poco quindi grazie Erenz per avermi dato questa roba detto questo ragazzi un bacione state me easy e noi ci rivediamo in settimana sempre qua con un nuovo video ciao a tutti